benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video vlog sono xgamerz2 e oggi stiamo insieme il mio compagno xgamerz98 ragazzi oggi siamo sul treno per andare per il romics per romics raga allora se ci siete sono precisamente le 7 e 39 di mattina e io a lui l'ho fatto alzare 6 40 alle 6 non c'è provare a 5 10 mi sono svegliato e addormentato per mezz'ora siamo indormentati e dopo vabbè abbiamo fatto siamo preparati noi ti perdiamo un po' il pulmo no si è arrivato un bel po' ovunque ragazzi noi siamo in piedi dalle 5 e mezza barra 6 siamo una sveglia assurda se oggi ci vedrete un po' stiamo in viaggio come dire siamo in viaggio per roma c'è un bel sole speriamo di beccare il treno coincidente perché siamo stati fermi un quarto d'ora ad aspettare questo cazzo di treno che partiva se vedete i miei capelli sono mezzi un po' i miei pare che pare che mi hanno stiacciato con l'infuglio io ci ho fatto l'assimo detto ragazzi speriamo che ci sia a romics di incontrarvi dato che qui sarà un video unico c'è partiamo da qua direttamente a romics c'è il video si stopperà qui e partirà subito da romics stiamo ancora un paio di secondi qua quindi mi raccomando ragazzi di lasciare un bel like questo video questo collisione ragazzi sempre in su non giuro almeno ragazzi c'è per la fatica nostra ne alzasse alle 5 e mezza mattina quindi ragazzi mi raccomando un bel like supportarci e per darci anche un supporto ci siamo alzati e tutto per andare a romics stiamo un po' in coma un po' e niente ragazzi noi ci becchiamo ma noi siamo a romics bella raga qui dentro c'è l'aria siamo a romics ragazzi siamo a romics c'è un moto di gente c'è l'arrivo che la gente che gira gente che va gente che viene gente che non va più andiamo a fare un giro per lungo fanno un giro così che la penna perché oh i penny oh i penny oddio mi scappo i penny mi andassero vabbè ragazzi noi cambiamo padiglione ci becchiamo dopo bella bella raga abbiamo cambiato padiglione siamo al padiglione 8 prima era 5 vabbè si 7 8 guardi c'è pure qui un botto di gente pure qua c'è tantissima gente non è sempre la ricerca di fare i gel non è sempre la ricerca di fare i gel stiamo iniziando tutti i padiglioni per cercare di trovarlo si è trovarlo appare che non c'è e vabbè continuo la ricerca la ricerca ci becchiamo dopo bella raga raga è immenso immenso spettacolare raga siamo sopra è enorme questo raga è un padiglione ci becchiamo dopo bella raga ragazzi questo passo è enorme cioè sono un padiglione è qui giuro da casa mia eh regalo non puoi dire niente ma non te cazzo è grosso ora andiamo al padiglione 5 e 5 mo andiamo dall'altra parte no mo andiamo dall'altra parte andiamo dalle siamo venuti andiamo di qua di dell'otto e voi sono l'otto? no no di qua guardio sei sicuro? no ma andiamo giù ragazzi è tremendo grosso ci stiamo aperte qui qui siamo dei verdi va bene ragazzi ci becchiamo quando siamo nel padiglione bella bella scherzavo no vabbè dai a parte ci vediamo dopo bella raga bella raga ti beccherebbe dai chi tu bella raga bella ti sto percuro troppo forte ti sto percuro troppo forte da voi che meno eh abbe dai raga bella bella raga bella siamo abbiamo finito la pena di mangiare mangiare due panini al volo voi due io e niente ragazzi comunque c'è peccato che c'è 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 gli artisti che ci sono no tutti uno per uno speriamo di arrivare in alto almeno 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 che il prossimo anno se riusciamo prendiamo lo stand qua prendiamo lo stand si e e e e e e noi finiamo il pranzo e ci ripetiamo tra poco bella raga bella raga allora ragazzi eccoci qua siamo arrivati alla stazione del treno stiamo ritornando a casa anche perché eravamo stanchi morti ci avevamo più sono le tre del pomeriggio so che chiude alle otto però non possiamo stare due giorni sotto il sole quindi cioè senza fare un cazzo in più avevamo pure fine dei soldi quindi dovevamo andarcene ugualmente e niente ragazzi mo aspettiamo stiamo accettando il treno delle quattro e mezza un'ora senza fare un cazzo ovviamente niente ragazzi noi ci becchiamo quando siamo sul treno bella bella niente ragazzi niente ragazzi siamo sul treno di ritorno ritornando a casa finalmente questo è che ce la faccio da stanco guarda che faccio no no ma chi non te faccio che te sveglia ma da ma che è l'ora e mezza notte ma è quasi l'ora per fare i panini ma che te fai la magna 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 no vabbè fate scherzi siamo in arrivo a Bruma San Pietro Bruma San Pietro ferma in tutte le stazioni all'ultranarsi dalla linea cia mentre anche a voce e va bene ragazzi tutto spero che vi sia piaciuto questo video domani forse domani 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 è vera quindi dipende come mi girano dunque ragazzi spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale se non è ancora fatto conditere il video con i vostri amici parenti nonni che vi pare insomma anche per supportarci e farci capire che il nostro tempo non è stato buttato quindi siamo andati a Ramix pure per voi non solo per noi più per noi che per voi però va bene ci vediamo e poi smurire bella raga